Dove ce ne vai così allegra? Vado a mangiare la Bella Napoli Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepoppavese Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3 Vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015 Si è svolta oggi pomeriggio in via Volturno una raccolta firme a favore della presenza dell'ambulatorio di Guardia Medica presso l'ospedale di Voghera Presenti tra gli altri il presidente della provincia di Pavia Daniele Bosone il consigliere regionale del Partito Democratico Giuseppe Villani e Fabio Aquilini del Movimento Civico d'Italia del Rispetto Vedo che c'è parecchia gente interessata perché la propria salute è la cosa più importante che abbiamo Il problema che viene posto è un problema sentito perché la continuità assistenziale cioè il medico di base che poi smette la sua attività la cui attività viene continuata dal medico di continuità assistenziale è importante è importante anche che la gente trovi un punto di riferimento cioè un ambulatorio in cui possa recarsi dove trova non il pronto soccorso perché bisogna evitare di ammassarci tutti a pronto soccorso ma dove trova un punto di riferimento importante Io ho appena firmato insieme agli altri amici e colleghi del Partito Democratico che sono qui e c'è una posizione ufficiale sia a livello regionale, provinciale che locale favorevole alla raccolta di firme anzi dirò di più io porterò anche questa questione come prima mi sono occupato della cardiologia prima mi sono occupato della stroke unit la porterò in regione attraverso un'interpellanza precisa perché non è concepibile che a Voghera non ci sia questo ambulatorio questo è l'embrione di quello che dovrà essere l'unità di cura primaria cioè quelle unità che devono essere di riferimento per i pazienti in cui si mettono insieme i medici di base, i pediatri di libera scelta e i medici appunto di continuità, i medici di guardia cosiddetti per garantire al servizio un servizio cittadino H24 il cittadino cioè deve trovare non solo chiamare chiaramente arriva al 118 o il medico di guardia ma anche poter avere un punto di riferimento H24 per i propri problemi oggi si incomincia a raccogliere firme per ribadire che a Voghera questo servizio serve, bisogna ricrearlo e deve diventare anche qualcosa di un po' più grande una sfida che noi come Partito Democratico stiamo cercando di portare avanti nell'ambito della riforma sanitaria lombarda in questi ultimi mesi si è parlato molto di governance si è parlato molto della questione che riguardano le collocazioni dalle persone e non si è parlato invece a sufficienza dei servizi che bisogna istituire la risposta è la gente buonissima ho incontrato persone che si professano leghisti di Forza Italia di altri partiti, senza partito che però su questo tema sono molto sensibili sono stati d'accordo con il Partito Democratico, con chi sta raccogliendo le firme e hanno risposto positivamente firmando la petizione vorrei sottolineare che la raccolta firme di oggi è una raccolta firme che vuole interessare fondamentalmente il cittadino quindi senza alcuna appartenenza politica ma è un disagio che il cittadino, la città si vive e pertanto quando si vive un disagio non ci sono le appartenenze politiche ma in questo caso come ambulatorio medico c'è la salute del cittadino ci potrebbe essere la possibilità che venga riportata di nuovo in consiglio comunale l'attenzione dell'amministrazione che si venga riportata di nuovo